Cosa vuole Urgu? Devo andare avanti! Ma è una cosa bellissima questa cosa! Ma lo sa che sono ancora arrivati noi che? Ho più noi che io che noi che lei! Guardi, quelli dalla Sardegna? Già, perché arrivano dei noi che speciali in Sardegna. Noi sardi! Noi sardi! Che prima la costa non costava e adesso costa quel che costa! Parecchio! E' bello questo, veramente bello! E poi stranamente è arrivato un lei che! Un lei che! Lei che se si sposa con mia figlia e fatte bambini con il sole caldo che abbiamo in Sardegna ne nascono già abbronzati! Ecco, ecco! Questa, guardi! Vabbè! Senta, immagino che la sua meravigliosa bimba mi abbia mandato un regalino! Non solo! E sono meravigliato! Perché come fa questa qui? Perché lei non se li merita! Guardi che roba bella! Ammazza caffè della già defunta! E' un già defunta! E' meraviglioso! Della bottiglia! Della bottiglia! Della bottiglia! Della lapide! Della lapide! Sì! Comunque questo se lo beve con amici è molto buono! E poi una cosa! Non riesco a capire il perché! Ho preso il diario di mia figlia! Non si fa però! Eh non si fa! Però una figlia deve dire tutto ai babbi quelle che sono le cose! Vabbè però! E ho preso rotto la password e sono entrato! Il lucchetto! Che password! Per passare si chiama password! Ho capito! Vabbè! Guarda! Glielo leggo con la voce di mia figlia! Ecco! Bellissima! Così ce la immaginiamo anche! Ricordarsi comprare carta vetrata per cacceretta una sola gamba! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Scusi ma a sua figlia si fa la ceretta con la carta vetrata! Non lo so! Questi sono segreti! Va bene! Non li vogliamo sapere! No! No! Eccolo qua! No! Caro Carletto! Quel fiore! Non toccarlo! Stanotte ti aspetto spogliata nel letto! Città! Guardi! No! No! Quello che... No! Bisogna stare attenti! Stiamo attenti! Lei tocca il fiorellino! Lo sa che toccando il fiore si impolli in impollina... E se rimane incinta! No! Guardi! Non dica queste cose perché non ho nessuna intenzione! Lei se la deve sposare questa ragazza! Ma neanche per sogno! Guardi! Lasci fare! La faccio cantare ma non parliamo del matrimonio con sua figlia! Visto com'è carina sua figlia! Come la vuole cantata stavola? Allora! Stasera come la vogliamo! Non canti la solita canzone! No no! È una salsa! Salsa! Bene! Musica salsa! Vai! Sentiamo la salsa! Come è? E la salsa se becchia! Pica su cadu! E la salsa se becchia! Pica su cadu! Grazie, Urgo! Arrivederci!